Polignano scena prima, vi facciamo vedere in anteprima qualcosa che vedrete in televisione soltanto l'anno prossimo. Eccoli Hope e Liam, la figlia di Brooke e il figlio di Bill Spencer che si sposano in riva al mare di Polignano, sotto lo sguardo commosso dei genitori. Lo abbiamo scoperto e filmato anche se qualcuno prova ancora a mantenere la suspense sulle puntate che andranno in onda in Italia solo tra sette mesi e Luca Calvani, l'attore italiano che li ha sposati. Ce l'hai fatta, li hai sposati? Li ho sposati, sì, senza interruzioni, perlomeno ce l'abbiamo fatta, non si può dire chi si è sposato, questo lo sapete, però... Un'idea ce l'abbiamo. E che è andata, c'è stata gente, si è buttata da terrazzi, non preoccupate, qualcosa è successo, però alla fine si sono sposati. Vado a fare la foto di gruppo, vada bello? Ecco il sì dei giovani sposini fuggiti in Italia su suggerimento di Brooke e un'altra anticipazione perché la stampa americana, lì perseguita dopo aver scoperto che lei non è più vergine, nonostante le sue dichiarazioni pubbliche, ha ceduto a Liam prima del matrimonio. Si risposano ancora una volta anche Brooke e Ridge, che abbiamo intercettato di ritorno dal sette, e anche lei ha qualche incertezza sul numero. Quante volte hai marito a Ridge? VIII? Molte volte! Sei qui per un matrimonio e questa volta non è il tuo, e questa è la notizia. Strano, vero? Strano, vero? Sì, sì. Non sei stanco di tanti matrimoni? Sono felice che non devo marrire così molte volte nella mia vita. Questo sarebbe strano. Assediati dai fan della sopa americana che va in onda in Italia da più di vent'anni, sei componenti del cast in trasferta in Italia, oltre alla coppia inossidabile e ai figli. Ci sono Steffi Forrester e Bill Spencer, che in questi giorni nel nostro paese sono una coppia, ma poi non si sa, ci ha detto lei, mentre in hotel aspettava di girare il tuffo nel mare di Polignano, un gesto disperato pare per il matrimonio di Liam con la rivale Hope. Ci sono tanti spettatori che vorrebbero che noi rimanessimo insieme, io e Bill. Siamo due personaggi con tanta passione, siamo un'anima selvaggio, però con un muro dentro. E però riusciamo come personaggi ad entrare uno nell'anima dell'altro, riusciamo a sfondare quel muro che ci contraddistingue. Della loro storia ancora in corso, Bill parla così. In Steffi Bill rivede se stesso, perché Bill è un narcisista. Quindi non ama nessuno più di se stesso. Steffi alimenta l'ego di Bill, sua moglie è Katie, invece la sua coscienza. Della Puglia il cast di Beautiful sarà senz'altro un gran testimone alzando alle dichiarazioni e comunque saranno in tanti, precisamente 45 milioni di persone al giorno, in 100 paesi del mondo, a vedere per dieci puntate Polignano, Alberobello e Borgo Ignazia, luoghi ancora sconosciuti per molti potenziali turisti del mondo. È bellissimo, voglio dire, guarda, voglio tornare con la mia famiglia e restarci per un po'. Davvero bellissimo, sì, assolutamente. Questo è il nostro posto? Sì, lo adotteremo. Davvero bellissimo, dici che è il nostro posto? Sì, lo adotteremo.